Ecco quattro modi scientificamente provati per ridurre in maniera efficace lo stress. Sì, perché a oggi lo stress è una vera piaga sociale. Chiunque oggi è cronicamente stressato e questo va a compromettere in primis ovviamente la nostra qualità di vita, la qualità della vita di chi ci sta attorno, ma soprattutto lo stress in maniera cronica come viviamo oggi sta impattando in una maniera talmente negativa che neanche ci immaginiamo sulla nostra salute. Sì, perché essere cronicamente stressati è uno dei primi fattori di malattia. Quindi la cosa più importante in assoluto è comprendere quelli che sono i quattro step principali per ridurlo in maniera efficace ed efficiente nel tempo e vivere una vita per la maggior parte del tempo serena. Ciao ragazzi e ben ritrovati qui in questo canale. Come sempre, prima di iniziare mi devo presentare per tutte quelle persone che sono arrivate qui per la prima volta. Sono il dottor Matepieri, biologo nutrizionista e personal trainer. In questi anni ho creato dei percorsi di crescita personale dove attraverso la nutrizione, l'allenamento e il giusto maest porto i miei pazienti da ogni parte del mondo a raggiungere da una parte un risultato straordinario dall'altra per mettere le basi culturali per poterlo mantenere nel tempo. E proprio con questo video cercherò di farvi comprendere quanto la gestione della componente emotiva, la gestione dello stress sia di vitale importanza per ottenere un risultato straordinario, per vivere bene, di qualità e con longevità. Perché spesso si parla di longevità, di aumentare l'aspettativa di vita e si omette una cosa più importante, ovvero la qualità della nostra esistenza. E quindi imparare ad avere un mindset dinamico, vincente, che riesca quindi a modulare le emozioni negative, che riesca a modulare la risposta allo stress, è di vitale importanza. Ora, doverosissima premessa riguardo lo stress. Che cos'è? Perché molte volte ci sono tante idee confuse riguardo a questo elemento vitale per la nostra esistenza. Sì, ho detto vitale proprio perché lo stress, essere stressati in maniera corretta e funzionale, è vitale per la nostra esistenza e per la nostra qualità di vita. Che cos'è quindi lo stress? Non è altro che uno stimolo in grado di perturbare il nostro equilibrio. In questo modo il nostro corpo ha uno stimolo per migliorare, diventare più efficiente e aumentare quindi quella che è la sua adattabilità. Questa è una cosa molto importante perché senza lo stress, se noi non ci stressiamo, non ci adattiamo e se non ci adattiamo, non miglioriamo effettivamente le nostre componenti cognitive, le nostre componenti fisiche. Quindi ad esempio l'allenamento è uno stress molto importante che se utilizzato bene, con i giusti programmi, col giusto stimolo, è uno degli stressor principali che permette di mantenere il nostro organismo in salute longevo e vitale. Quindi comprendete quanto lo stress e gli stressor siano in realtà degli elementi molto importanti, ma anche qui la quantità fa il veleno. Che cosa vuol dire? Che essere cronicamente stressati o essere poco stressati dall'altra parte può andare a creare enormi problemi, proprio perché se noi non siamo impegnati a crescere, non siamo impegnati a nascere, siamo impegnati a morire. Che cosa vuol dire? Che quindi se noi non mettiamo uno stress progressivo nel tempo in grado di creare dei nuovi adattamenti, il nostro corpo, quegli adattamenti, gli uno li andrà ovviamente a creare e andrà a peggiorare le sue funzionalità. Che cosa vuol dire? Che il nostro organismo funziona a feedback. Se riceve uno stress, se riceve un segnale, lui poi si va ad adattare. Senza quel segnale, senza quindi la ghisa, senza un muscolo affaticato, senza uno sforzo cognitivo quotidiano, il nostro organismo semplicemente non percepisce la necessità di mantenere quelle funzioni e quindi chiaramente nel tempo le andrà a perdere. Pensa un po' agli astronauti che vanno sullo spazio e vanno a perdere preziosi minerali, vanno a perdere qualità e salute ossea, anche se sono di fatto giovani, proprio perché non c'è uno stress, non c'è uno stimolo a livello dei meccanorecettori dell'osso e quindi di fatto il corpo non percepisce la necessità di creare un turnover. Quindi di fatto le persone che vanno in orbita per tanto, tanto tempo si ritrovano con una salute ossea peggiorata. Infatti adesso hanno iniziato a inserire appunto allenamenti, possibilmente contro resistenza con elastici, eccetera, per migliorare la salute fisica e mentale degli astronauti. Quindi comprendete quanto lo stress sia un elemento vitale. Quindi noi non dobbiamo spaventarci dallo stress, ma lo dobbiamo comprendere e gestire correttamente a livello della programmazione annuale. Pensa un attimo all'allenamento. L'allenamento se lo fai correttamente, spingi bene, vai a creare una sorta di supercompensazione dove anno dopo anno il tuo corpo diventa più forte, più resiliente, più antifragile. E questa è una cosa veramente importante perché ci rende degli organismi migliori. E lo stesso modo vale per la lettura, per lo studio, per imparare una nuova lingua. Tutte queste cose sono degli stressor positivi per il nostro organismo. Ma il problema di oggi è che noi questi stressor non li gestiamo correttamente. Che cosa vuol dire? Che abbiamo sempre ansia, abbiamo paure, preoccupazioni, viviamo in un ambiente iper stimolante, che quindi ci mette in una condizione di dover performare troppo, per troppo tempo, senza mai scaricare. E questo è il vero problema perché una volta c'era uno stressor abbastanza, diciamo, acuto. Che cosa vuol dire? C'era un leone che ci doveva sostanzialmente uccidere. Quindi noi avevamo uno sforzo immediato da fare, riuscivamo a convogliare lo sforzo, riuscivamo a essere più sotto controllo verso quello stress, ma era uno stress che aveva un forte picco, ma poi svaniva nel tempo in maniera molto veloce, perché o morivamo o sopravviviamo. Quindi il problema era che avevamo uno stress molto importante da dover superare, ma poi la risposta andava via via a scemare. E quindi il nostro stress è uno stress molto più subdolo, perché è cronico e molte volte non lo si percepisce neanche. Abbiamo un po' d'ansia, dormiamo male, siamo un po' nervosi. E questo è un problema, perché lo stress, in questo modo cronico, che non si riesce quindi a creare un adattamento funzionale al nostro organismo, va a compromettere le funzionalità del sistema nervoso. Essere cronicamente stressati va a peggiorare, quindi le zone ipocampali legate alla memoria a breve termine, la capacità di gestire le emozioni, la rabbia legate quindi alla componente più sulla amigdala. Quindi tutte queste robe qui vanno a compromettere il sistema cognitivo, il sistema immunitario, il sistema muscolare, le nostre ossa. Tutto il sistema, passatemi il termine, viene hackerato quando c'è uno stress cronico. Quindi, che cosa vuol dire? Maggiore è lo stress, maggiore è quello stress non recuperabile, e maggiori sono le probabilità di accelerare l'invecchiamento, di ammalarsi, e di vivere una vita poco qualitativa. Quindi noi dobbiamo imparare a gestire lo stress, non essere spaventati da esso, ma riuscire a controllarlo in maniera funzionale per la vita che noi vogliamo vivere. Questa è la cosa più importante da comprendere, perché altrimenti si pensa sempre che bisogna rilassarsi, bisogna riposarsi, bisogna stare sul divano, bisogna fare le cose con calma. No, il nostro organismo è una macchina biologica estremamente adattativa, quindi noi dobbiamo spingere sull'acceleratore, noi dobbiamo spingere, ma gli dobbiamo dare le capacità e le possibilità di recuperare quello stress. Quindi la cosa importante è stimolarlo in maniera corretta affinché lui riesca a creare una supercompensazione. Quindi il lavoro è uno stress molto positivo se coinvolgato bene, l'alleamento è uno stress positivo, le relazioni sociali sono uno stress positivo ma devono essere gestite correttamente perché altrimenti si va in burnout, si entra nella ruota del criceto dove si fa, si fa, si fa, ma non si ha gratificazione nel processo, non si è appassionati a quello che si sta facendo, si vive tutto in maniera tassante, ansiosa, con preoccupazioni, viviamo il futuro in maniera estremamente preoccupante e quindi di fatto siamo cronicamente stressati e quindi viviamo male e facciamo delle scelte sbagliate. E tutto questo ovviamente si ripercuote sugli altri, su di noi, ma sulla salute e sull'estetica perché essere cronicamente stressati non è che va a compromettere semplicemente la tua qualità di vita, essere cronicamente stressati va a aumentare la tua voglia di mangiare di più, la tua voglia di mangiare schifezze perché il tuo cervello chiaramente vuole recuperare, vuole avere energie per avere gratificazione, per avere delle strategie migliori per recuperare quello stress che gli hai dato in maniera cronica che lui non è in grado di supercompensare. E quindi tutto questo stimolo porterà semplicemente a enormi danni. E se noi osserviamo i nostri centenari, se noi osserviamo le persone che vivono a lungo, sono persone che hanno una buona capacità di gestire lo stress. Oggi va di moda il biohacker, il biohacking, tutte queste robine qui. La verità è che il segreto della longevità è riuscire a mantenere per tutto il ciclo vitale uno stress corretto e recuperabile nel tempo. Le persone che riescono a performare tantissimo, per tanti anni, le persone longeve, sono delle persone che si stressano, ma riescono a stressarsi quando c'è necessità di combattere, quando c'è necessità reale di ingaggiare la risposta legata allo stress. Non che prima del problema ci si inizia a stressare, si inizia a pensare, a rimuginare ai problemi. E guardate che la maggior parte di noi, me compreso, ha questa cosa del rimuginare, ha questa cosa di avere ansia, di preoccuparsi per un futuro. Ma la verità è che si può controllare, la si può gestire attraverso strategie che vedremo in questo video per creare delle azioni funzionali alla vita che noi vogliamo. Quindi la longevità passa dalle nostre emozioni, la longevità passa dalla risposta e la gestione dello stress. Quindi vedete quanto la nostra salute, quanto la nostra esistenza non sia determinata soltanto dalla nutrizione o dall'allenamento. Perché molte volte le persone fanno questo errore, puntano a essere sani dal punto di vista fisico, ma non sono poi sane dal punto di vista mentale. Ecco, se la mente non segue il corpo e viceversa, quindi se la mente non è in primis sana, non sa gestire le emozioni, non le sa controllare nel tempo, avremo degli organismi che non sono sani. Magari saremo esteticamente piacevoli da vedere, saremo con gli addominali, con il fisico, perché magari abbiamo anche dei vantaggi biologici per avere massa muscolare, quindi dal fuori potremo essere anche visti come delle persone sane e salute. Ma dentro staremo di fatto morendo piano piano. Perché? Perché se non gestiamo la componente emotiva, siamo cronicamente stressati, i processi di invecchiamento sono esponenziali. Quindi il vero fattore della longevità è gestire correttamente la componente emotiva. Per questo che molte volte si punta sulla dieta corretta, si punta su mangiare di qualità, ma se non c'è una base emotiva qualitativa, una buona gestione dello stress, quei nutrienti qualitativi il corpo non se ne fa nulla. Proprio perché si vive in una condizione di stress. Ci sono tutta una serie di neurotrasmettitori, ormoni presenti, che vanno a compromettere, come dicevo, il sistema cognitivo, immunitario, il tessuto osso, muscolare, eccetera. Quindi la nutrizione è soltanto uno degli elementi che porta il risultato finale. Quindi è per questo che all'interno dei percorsi io voglio lavorare in maniera sinergica nelle aree del cambiamento, che portano veramente dei risultati a 360 gradi. Perché io non voglio avere dei pazienti che migliorano soltanto fisicamente, io voglio vedere dei pazienti che vivono la vita in maniera qualitativa, che sono emotivamente stabili, che stanno bene, che performano, che hanno un buon fisico, che abbracciano il wellness a 360 gradi. Ed è questa la mia missione, questo è lo scopo per cui ho aperto tutto questo. perché portare un risultato estetico, meno male lo può fare chiunque, perché una persona motivata, una persona che inizia a fare la dieta, l'alleamento, iperfocalizzata da soldato, il risultato lo porta a casa. È ovvio, cioè la fisiologia è quella, se lo fai, lo fai per un po' di tempo, arriva. Ma se non ci sono delle basi comportamentali, non c'è una corretta gestione di queste componenti emotive, di stress, tutto questo poi non porta a un reale benessere e rischia soltanto di creare enormi fallimenti e effetti io li ho. Perché se non c'è una gestione emotiva, le persone poi sgarrano, le persone devono mangiare, devono drogarsi con alcol, droghe varie, farmaci per dormire. Quindi, di che benessere stiamo parlando? Per questo, che bisogna lavorare a 360 gradi, bisogna essere dei coach della salute, non tanto nutrizionista, allenatore, ovviamente sono tutte figure specifiche che vanno benissimo, ma bisogna sempre lavorare nel complesso, perché apportare il risultato non sarà mai il singolo fattore. E quindi, detto questo, quali sono quei quattro fattori che dicevo all'inizio video che permettono una corretta gestione dello stress? Punto primo, avere il controllo. Se tu senti di avere il controllo nella tua vita, senti di avere un fisico prestante, senti di avere le capacità cognitive per gestire le sfide che la vita ti presenta davanti, avrai maggiori probabilità di gestire correttamente lo stress. Quindi che cosa vuol dire? Che se tu sei una persona che si sente sotto controllo, si sente presente nella vita che sta vivendo, senti di avere le capacità di superare i problemi, sarà una persona che riuscirà a gestire molto bene lo stress e si attiverà la risposta allo stress solo e soltanto quando ci sarà la battaglia in atto, perché tu sarai una persona pronta, sarai in grado di capire che puoi superare quelle sfide. Questa è la cosa più importante in assoluto. Tutte le persone che riescono a modulare la componente emotiva hanno questo controllo, hanno questa sensazione di avere il controllo nella loro vita. E per aumentare il controllo che cosa bisogna fare? Bisogna aumentare le proprie competenze, bisogna aumentare lo sforzo fisico. Sì, perché il secondo fattore che permette di ridurre, modulare la risposta allo stress è il corpo, è il movimento, è l'azione. Cosa vuol dire? Che come una gazella scappa da un leone, noi dobbiamo azionare il nostro organismo, dobbiamo allenare i nostri muscoli, il nostro sistema cardiovascolare, siamo stressati, andiamo a correre, andiamo ad allenarci, perché l'azione muovere il corpo permette di aumentare il controllo, permette di sfruttare lo stress che abbiamo accumulato per un'azione specifica. Quindi, se tu sei stressato, devi allenarti, se tu sei stressato, devi fare qualcosa perché dall'azione aumenti il controllo e se hai controllo, hai meno stress. Quindi, l'allenamento fisico è una delle componenti principali che ti permettono di modulare la risposta allo stress. Il terzo fattore è la prevedibilità. Più conosci, più sai dove stai andando, più hai la capacità di vedere il tuo percorso, più riesci a prevedere le cose e migliore è la risposta allo stress. Che cosa vuol dire? Che se tu sai che un'infermiera ti deve fare un'estesia, se tu sai che avrai un dolore, se tu sai che avrai o avrai una maggior probabilità di avere una sfida davanti, saprai realmente come affrontarla. Quindi, avere prevedibilità nella vita è una di quelle cose che fanno veramente la differenza. Quindi, cosa vuol dire? Che aumentare ad esempio le routine, aumentare l'allenamento, aumentare il controllo nella quotidianità, sapere che cosa si sta facendo, quindi avere anche una visione sul lungo periodo, essere lungimiranti, sono tutte abilità, sono tutte funzioni che ci permettono di modulare correttamente lo stress e di attivarci quando è necessario farlo. Il quarto fattore sono le relazioni sociali. Che cosa vuol dire? Che avere un gruppo di amicizie, avere una ragazza, un ragazzo, essere parte di qualcosa, di un gruppo sociale, permette, in maniera esponenziale, di ridurre tantissimo lo stress. Che cosa vuol dire? Che parlare col prossimo, avere dei confronti, sentire l'opinione altrui, essere parte di una comunità è uno di quei fattori che ti permettono di essere al sicuro, di avere il controllo, di avere una maggior prevedibilità verso il futuro perché c'è un confronto, c'è un'unione, sai che puoi contare sul tuo compagno, sul tuo amico, sulla tua ragazza e questo ti dà una maggiore sensazione di essere presente e con le capacità di superare le sfide. Quindi se noi andiamo a vedere i centenari, tutte persone che sentono di avere il controllo, sentono di capire come andrà il futuro, sentono di avere una community solida e coesa, sentono che è necessario fare movimento, mangiare correttamente, tutti questi sono pattern della longevità e magari loro non lo fanno neanche in maniera conscia e non sanno neanche di questi fattori qui, ma lo fanno perché in maniera casuale hanno trovato beneficio, hanno trovato dei giovamenti da questi comportamenti. Quindi i quattro fattori che permettono di modulare lo stress sono controllo, prevedibilità, sostegno sociale e azione, legata quindi al movimento e esercizio fisico. Quindi tutto quello che genera queste quattro componenti ti porta a modulare correttamente la componente emotiva legata allo stress. Quindi fare meditazione, avere una routine settimanale, andare in palestra, fare allenamento, avere quindi una gestione della giornata, della settimana in maniera intelligente, in base alle proprie caratteristiche fisiche e mentali, ti permette di modulare correttamente lo stress. Quindi avere il caos, avere settimane, giornate dove tu non hai il controllo, dove tu non sai che cosa devi fare, è una di quelle cose che ti aumenta e ti rende esponenziale la tua risposta allo stress. Quindi la cosa più importante è programmare, sapere dove vuoi andare, che cosa vuoi fare, chi devi diventare, programmare sul lungo periodo tutti quei fattori che portano al risultato, dall'allenamento, all'alimentazione, alle tue routine quotidiane, dalla doccia fredda, alla meditazione, a una passeggiata, ognuno ha le proprie caratteristiche ed è per questo che devi plasmare i propri comportamenti giornalieri, settimanali, mensili, annuali in funzione ad esse. Queste sono le cose più importanti da comprendere. Ragazzi, sembrano anche banalità, ma farle giorno per giorno, step by step, essere veramente costanti nella gestione di questi elementi vi garantisco che fa tutta la differenza del mondo. E quindi imparare a gestire la nostra risposta allo stress è uno degli elementi principali che determinano la nostra salute, che determinano la nostra qualità di vita, la nostra longevità e come veramente sfruttiamo il tempo che la vita ci ha messo a disposizione. perché il vero nemico nella maggior parte dei casi siamo noi stessi con i nostri pensieri che ci proiettano in un futuro che non sappiamo realmente come sarà. Quindi viviamo semplicemente delle emozioni, ci preoccupiamo per qualcosa che nella maggior parte dei casi non arriverà mai. Quindi la cosa più importante è riuscire a vivere per quanto sia possibile il presente con la massima qualità senza creare troppe ansie, troppe preoccupazioni per un futuro che il più delle volte non avremo controllo, che il più delle volte non sarà realmente prevedibile. Quindi questo per dirvi che ci vuole un piano ma quel piano deve essere adattato, modificato e in linea con le nostre caratteristiche fisiche e mentali. Ed è una cosa su cui io cerco sempre di ricordarmi perché ogni azione che faccio penso sempre questa azione che sto compiendo mi porta verso il risultato che io voglio raggiungere, mi sta portando nella vita che io voglio vivere ma soprattutto quell'azione mi farà dormire meglio la notte perché queste sono le cose più importanti da comprendere perché senza questa consapevolezza poi rischiamo di prendere delle decisioni lavorative, sociali, eccetera che rischiano di portarci soltanto ulteriori stress e un peggioramento della nostra qualità di vita. E quindi questi sono i fattori reali che permettono di vivere una vita qualitativa e duratura nel tempo. Ragazzi, con questo episodio è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che potete iscrivervi al canale, per noi è di grandissimo supporto appunto la vostra iscrizione perché ci permette di andare avanti con il nostro processo di divulgazione semplice e pratica come piace a noi. Ragazzi, al prossimo video.